E' molto ragazzi qui è AX Volevo fare una decisione per riprova What? Vabbè vanno già che erano tornati in Clash of Clash Però Per colpo non possiamo farlo Quindi si gioca a minecraft Per forza Però Non nel nostro mondo Neppure Bensì Voglio Creare Cioè così giusto passano un po' il tempo Perché andremo fuori e tornare nell'altro modo Perché mi va semplicemente Speriamo che mi entra Cioè se no Perfetto ragazzi Non possiamo più fare una Ah no invece si perfetto Vedete Grazie basati i messaggi Grazie Perfetto 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 però c'è un vittadio io di vero pensavo che non avrebbe fatto perché lagga una connessione di merda io lo dico seriamente perché è vero per quanto io parto non migliorano perché tanto che è brutta la casca della pelle non lo ricordavo aspetta è d'obbligo vederlo oh no fatti vedere là ecco non l'ho voluto far vedere lo dico cattus perché c'è un deserto vedi manca l'xbox l'xbox partivi con una mappa c'è xbox certo meno la playstation ho una spada e non ho paura di usarla ho un piccone e ho paura di usarlo perfetto possiamo andare via ho visto che mi sento più al sicuro con dei bei utensili di pietra ho avuto un piccone una spadina mi sento già più al sicuro eh se com'è legno contro cobblestone a meno che non si scherzano i pivi i pivi finchè non mi cadendo su tutto il mondo mi sta bene se puoi vogliamo che sono un pezzettino di qua sappi che questa qui sarà la nostra nuova base quindi che è tipico poi ci vivrai ah quanto è bello probabilmente sarà qui noi vivremo per sempre in realtà questo qui mondo cazzeggi cioè quell'altro l'avevo iniziato con Kevin questo lo lasciamo questo lo continuiamo noi perchè è tutto certo quindi taglielo anche perchè non potete quindi lo continuiamo a vedere è il caso ma che quello è il caso che è il caso che è il caso che è il caso che è il caso per quanto il ferro sia utile io preferisco il carbone che mi basta pure un solo pezzettino per fare i quattro torci t su mezzo l'acqua cos'è questo dove sono? dove siete? scusatevi so che voi adesso non vedete niente fidatevi che neppure io vedo qualcosa però mi sto sforzando perché devo trovarlo è d'obbligo facciamo il ferro anche voi fate questo piccolo sforzo non si vede un cato non è sembrato ciao di qua non c'è niente se non qualche minerale che ho lasciato indietro perché non vedevo che poi sarà un'impresa a rire sforzo sforzo non fa fare perché sono dovuto vedere questo devo scendere in qualche modo e sperare che ci sia un qualcosa si è baccato si è baccato colpito l'ho ucciso l'ho ucciso giù giù una torcia adesso ci vediamo ragazzi che bello molti pezzi di colsa non li avrei nozioni non li avrei che quello che ho visto quel pezzi pezzetti di te no no che brutto che brutto non è corazzato con dell'armatura è morto è caduto in basso vedi gli stichetti se posso pure aspettare riesco a giocarmelo sul tattico e sul ferro perché il ferro è nostro amico e il ferro ci correzza perché si io odio questa cazza di texture ah beh hai usato tutto il coal che avevi per farti le torce vedrei che per questo video è tutto il tuo che si è buggato non lo vedo veramente io timore stati fornati surprise si è corazzato è corazzato per forza carne marcia mangia mangia che ti fa bene la carne marcia che è dentro era il mio stomaco spero che vuoi di li cucina qui quel rumore non mi è piaciuto ditemi l'avete sentito pure voi non fate finta di non aver sentito benissimo per voi vi direi che per questo video è tutto grazie per la visione anche se quel grido non era molto promettente non mi fido vuol essere bello guardato a tappo pure così non posso sospettare si spera grazie per la visione della ragazza lasciate like